Grazie, ascoltando le relazioni precedenti mi è venuta voglia di fare una cosa un po' diversa e effettivamente potrebbe anche essere adatta come ultimo intervento alle 19.13 di una giornata con 40 gradi di venerdì per di più. Quindi provo a fare un passo fuori, fuori da come ci vedessimo un po' da distante e visto che ormai il fenomeno che sto per descrivervi l'ho vissuto già un certo numero di volte, voi anche, ovvero la nostra moderatrice che ci ha lasciato parlava a un certo punto di hype usando la parola inglese. In realtà quello che abbiamo vissuto, viviamo costantemente più o meno ogni 2-3 anni, 3-4 anni insomma, cloud computing, big data, intelligenza artificiale e tra un annetto salterà fuori un'altra le chiamerei ondate iperboliche. Quindi chiamiamole, usiamo delle parole italiane, ondate iperboliche. Queste ondate iperboliche che vengono congegnate non da noi, vengono congegnate tendenzialmente negli Stati Uniti, più precisamente in Silicon Valley, arrivano, noi le subiamo, sostanzialmente le subiamo, però vanno affrontate correttamente perché è chiaro che dentro queste ondate iperboliche c'è un contenuto tecnologico vero e serio e questo è importante, non vogliamo certo perderlo e anche parte della società umana avere fenomeni di questo tipo, non le chiamerei mode, la moda è un'altra cosa. Queste sono ondate iperboliche anche sapientemente costruite, la scelta delle parole, il modo in cui vengono presentate, la cornice che viene scelta, voi sapete che è un quadro a seconda della cornice che sta intorno dà tutto un altro significato o luce al dipinto che c'è all'interno, tutto questo è sapientemente pensato e noi lo riceviamo. Allora di fronte a queste ondate iperboliche in parte è normale cavalcarle, noi accademici in parte lo facciamo, voi lo fate, è umano, però tra di noi dobbiamo essere invece capaci di essere assolutamente realisti e quindi di queste ondate iperboliche tra di noi, siamo colleghi, sono ingegneri informatici e coinvolgendo tutti quelli che riterremo opportuni dovremmo essere assolutamente realisti e dissipare il fumo, dissipare le cortine fumogene, tra di noi evitiamolo poi se volete vendere qualcosa o se vogliamo vendere un progetto di ricerca decideremo se usare anche noi queste cortine però tra di noi dissipiamole per capire esattamente come stanno le cose, non mi sto riferendo specificamente all'intelligenza artificiale, vale per tutto, vale per il cloud, vale per l'interno delle cose, vale per blockchain, poi vale al quadrato, al cubo dati alla mano per capire esattamente di cosa si tratta fatto questo due rapidissimi punti metodologici uno vi faccio e mi faccio perché io stesso devo stare attento un invito a riflettere se non dovessimo fare se non dobbiamo fare come i francesi come gli spagnoli come i tedeschi e usare l'italiano ma non per un presunto patriottismo o per una polizia dei linguaggi in genere sono molto nervoso quando qualcuno comincia a dire hai usato una parola non dovresti usare la polizia dei linguaggi mi dà fastidio però invece un generale appello a tradurre le parole e usare l'italiano penso sia molto utile, ripeto, non per patriottismo ma perché lo sforzo necessario per trovare le parole italiane per certi fenomeni, per certi concetti, per certe tecnologie aiuta la comprensione perché nel momento in cui siamo obbligati a tradurre dobbiamo dire ma cos'è esattamente questa cosa come la voglio rendere qual è la parola più giusta per renderla e una volta che abbiamo tradotto in italiano studi delle neuroscienze dei linguisti sperimentali ci dicono che il processo del pensiero e il processo innovativo, il processo creativo è diverso fatto nella propria lingua quindi se noi tutte queste cose che abbiamo raccontato le pensassimo in italiano saremo non soltanto più precisi ma saremo probabilmente anche più innovativi, più creativi perché il cervello cambia la personalità usando diverse lingue secondo premessa metodologica attenzione, di nuovo parliamo tra amici attenzione che molto spesso creiamo cose, vendiamo cose, studiamo cose che sono soluzioni alla ricerca di un problema dovremo essere di nuovo tra di noi col massimo realismo siamo molti attenti a dire capire il dominio studiare il dominio sulla base dei suoi principi fondamentali e poi avalle che sia l'educazione che sia la salute eccetera eccetera se poi c'è uno specifico sottoproblema che si presta particolarmente per uno strumento tecnologico che noi conosciamo che sia la blockchain devo ancora trovarlo ma ci sia la blockchain che sia l'intelligenza artificiale o altro fantastico, applichiamolo molto spesso il processo è invertito io ho la tecnologia e sono disperatamente alla ricerca di un problema a cui applicarla questo ripeto entro certi limiti è legittimo tutti dobbiamo vivere tutti vogliamo vendere però almeno tra di noi come analisti cerchiamo di essere più onesti possibili a questo punto se abbiamo dissipato il fumo se abbiamo come se ci siamo girati di recente si parlava della della caverna di Socrate o di Platone se ci siamo girati non stiamo più guardando le ombre sulla parete della caverna ma guardando l'effettiva cosa allora chiedeci concretamente questo faccio come dire salgo e cerco di parlare da cittadino di capire qual è il nostro interesse l'interesse nazionale l'interesse di questa regione l'interesse di questa città l'interesse del nostro sistema produttivo come dovrebbe comportarsi l'Italia nello scacchiere internazionale invece di andare a rimorchio costantemente di altre potenze europee che fanno i loro interessi quali sono i bisogni specifici nostri quali sono noi abbiamo dei problemi tutti nostri specifici vogliamo affrontare quelli con questi nuovi strumenti quali sono le nostre opportunità che sia il sistema produttivo che sia un'organizzazione che sia la pubblica amministrazione ok quindi un'analisi di nuovo spassionata super realista di quelli che sono i nostri bisogni interessi e opportunità poi fatto questo allora dire benissimo allora quale competenze ci servono per affrontare questi problemi e per raggiungere queste opportunità ci servono delle competenze ci servono delle tecnologie dobbiamo imparare qualcosa dobbiamo insegnare qualcosa che cosa insegniamo a chi chi insegna a che cosa ok non fa tutto l'università non mi sembra una buona idea alcune cose le facciamo noi altre le farete voi associazioni e aziende di di formazione ok attenzando attenti alle sovrareazioni cioè dire arrivano un dato iperbolica sovrareazione facciamo sconvolgiamo tutto mentre invece come diceva anche il mio ex rettore Francesco Profumo non è opportuno necessariamente sconvolgere tutto anzi al contrario terzo gli aspetti qualcuno l'ha citato a un certo punto gli aspetti oltre alla mia collega Taddeo gli aspetti sociali e politici sono citato il cyberpunk e io vi cito invece uno storico della tecnologia americana Melvin Kranzberg che sul finire della sua vita si è divertito a pensare a delle leggi la prima è semplicissima la insegno sempre a tutti i miei studenti ovvero la tecnologia non è né buona né cattiva né neutra e questo né buona né cattiva né neutra apre tutto se ci pensate un po' apre tutto un ventaglio di riflessioni che non sto a ripetere perché in parte sono stati già citati ovvero riflessioni su la tecnologia non arriva da Marte non è un è prodotta da esseri umani non è vero che è un moloch incontrollabile controllabile come è mossa per citare qualcuno di famoso da persone che hanno nome, cognome, soprannome non è un fenomeno non è un fenomeno naturale allora da questo punto di vista dovremmo chiederci la tecnologia la vogliamo o non la vogliamo sono tecnologie che abbiamo deciso di non volere perché per esempio molto pericolose o molto impossibili da controllare e in generale se la vogliamo come la vogliamo come la vogliamo plasmare con quali tempi la vogliamo introdurre fa una differenza gigantesca introdurre una tecnologia in due anni o in cinque o in dieci e può darsi che in certi casi sia opportuno introdurla in dieci per esempio per non avere milioni di disoccupati ok quindi questa riflessione come dire più ampia che è politica che è etica che è sociale è una riflessione che non scopro certo io ci sono insomma sono 70 anni almeno che se ne discute però è importante farla e noi dobbiamo dare il nostro contributo come tecnici perché noi possiamo dire che questa tecnologia guarda che è effettivamente così e potrebbe effettivamente fare cos'ha togliendo il fumo di cui vi parlavo ok quindi da questo punto di vista vi inviterei e concludo adesso l'intelligenza artificiale ma state certi che il vostro IT Day 2022 sarà qualcos'altro proviamo a fare questo sforzo collettivo dal lato nostro come università credo che abbiamo una precisa responsabilità di dare una mano a contribuire a questa forma di realismo e a questo studio come dire integrato della tecnologia quindi non solo informatici ma anche filosofi anche sociologi anche psicologi e così via ma in realtà da poter fare le scelte giuste come società e in particolare come società democratica grazie grazie